ben trovati amici al nostro consueto spazio informativo l'angolo della biomeccanica oggi parleremo di un accessorio importantissimo per i ciclisti amato e odiato a volte da loro e in particolare dal loro bacino dunque parleremo della sella avete mai avuto disturbi a livello della zona perineale la zona intima tanto da causarvi ad esempio difficoltà nella minzione perdita di sensibilità o magari degli sfoghi a livello cutaneo vi hanno mai fatto male i muscoli dei glutei che sono in corrispondenza delle osse ischiatiche vi sembra di avere la sella troppo piccola o vi sembra di pedalare su una sella troppo grande niente panico avete bisogno di un consulto biomeccanico quindi ovulato attraverso i nostri strumenti sensorizzati saremo in grado di aiutarvi a misurare il vostro bacino nello specifico la larghezza delle ossa ischiatiche ma anche di analizzare ed individuare la mobilità pelvica che avete altro parametro importante per determinare qual è la sella giusta per voi perché vedete le selle che trovate in circolazione non variano soltanto per dimensione ma anche per forma in commercio infatti potete trovare selle piatte come questa che vedete qui alla mia sinistra e selle tondeggianti selle molto imbottite e selle poco imbottite selle lunghe o selle corte che oggi vanno per la maggiore qual è la sella giusta per voi venite via move lab e vi aiuteremo a trovarla per notare un shake up biomeccanico vi aspettiamo e ricordatevi via move fit your passion